avevamo una lancia e una pelliccia e fuori c'erano animali feroci questa cosa ci teneva lontano dai guai fondamentalmente oggi per fortuna non viviamo più nell'era paleolitica non siamo nella giugla però di perché spesso è una giugla comunque ed è quasi più pericolosa di quella evidente perché tu quando sei nella giugla sei allerta sai che sei nella giugla, sai che può uscire un tigre o una pantera da un momento all'altro ti può aggredire quindi sei allerta, invece nell'ambiente protetto non lo sai quindi un certo grado di diffidenza cosa che io per deformazione professionale ho ragazzi, la diffidenza è faticosa facile fidarsi fateci caso, quante spendete per verificare l'affidabilità di qualcuno e quante spendete per dire no mi fido ciecamente fine, ok, sì, è zero cioè in un caso è zero, quindi io non avrei paura tranne in caso evidenti, come tu mi dici Germano io vedo che mia figlia, mio figlio è eccessivamente chiuso eccessivamente nei confronti del mondo, no? esterno ha troppa paura allora c'è un eccesso di paura un eccesso di pregiudizio negativo ingiustificato quindi il consiglio che do è capire questo check out